Ciao a tutti gli amici e amiche di Zona Mista. Oggi siamo in un posto unico nel cuore di Bergamo sotto piazza Dante. Questo è il Balzer Globe e insieme a noi ci sono due ospiti speciali, Matilde Arsuffi e Camilla Vanali. Benvenute ragazze. Grazie mille. Allora classe 2007, 16 anni a testa e un'avventura appena terminata. Voi siete due giocatrici della squadra lussana di pallavolo che ha partecipato ai campionati studenteschi nazionali di pallavolo ed è arrivata seconda. Camilla, com'è stata questa esperienza? È stata un'esperienza unica, probabilmente una delle esperienze più belle della mia vita che mi ha segnato particolarmente, ha segnato anche tutta la squadra. È un motivo di grande orgoglio per tutte, anche da parte dei nostri genitori, dei nostri familiari, anche da parte della scuola. Penso che sia un'esperienza che possa portare molti miglioramenti, sia personalmente ma anche a livello scolastico. Quindi una grande esperienza sotto ogni punto di vista. E tu, Matilde, la ripeteresti? Sì, la ripeterei sicuramente. È stata una, se non l'esperienza migliore della mia vita. E probabilmente anche se sapessi di arrivare nuovamente seconda, la ripeterei sicuramente. La pallavolo, lo sport in generale sono parte fondamentale della vostra vita. Il 20 settembre lo sport è entrato per la prima volta nella nostra Costituzione. Nella realtà che vivete quotidianamente, ad esempio la scuola, secondo voi è sufficientemente valorizzato, tutelato? No, è un grande obiettivo, però si potrebbe fare ancora molto di più, anche perché lo sport è una valvola di sifogo per molte persone. E penso che tutt'oggi non sia ancora totalmente valorizzato. Tu che cosa ne pensi, Matilde? Anche secondo me penso la stessa cosa di Camilla. Infatti, soprattutto nelle scuole e anche nella nostra in particolare, secondo me lo sport è davvero molto sottovalutato. Probabilmente le persone non capiscono l'effetto e anche la gioia che possa portare a fare sport. L'esperienza ai campionati italiani vi ha portato sicuramente tanta gioia. Avete trionfato nella fase provinciale, anche in quella regionale, e siete andati avanti molto spedite anche nella fase nazionale. Però a volte, a parte dello sport, capita anche di non vincere. Come affrontate una sconfitta, da sole come giocatrici e poi come squadra? Come squadra l'abbiamo affrontata inizialmente un momento di sconforto, perché giustamente dopo tanto impegno arrivare secondi non è la cosa più bella che possa succedere. Però d'altra parte ci siamo guardati indietro, abbiamo visto il percorso che abbiamo fatto e davvero dobbiamo essere tutte fiere di noi stesse. Ovviamente inizialmente c'è stato un momento di sconforto, ma sicuramente il fatto di essere molto amiche e molto squadra ci ha aiutato a risollevarci molto velocemente, nonostante la sconfitta. Lo sport è anche una medicina per superare i momenti difficili. Voi avete 16 anni, andate a scuola, sappiamo che spesso ci sono dei momenti meno semplici durante la scuola. Qual è il valore dello sport da questo punto di vista? Appunto, come ho detto prima, è molto una valvola di sfogo, personalmente parlando, e porta a chiudere i problemi totalmente in una scatola e quando si entra in palestra si pensa solamente alla pallavola e al meglio di sé. Quindi è proprio un momento in cui ti dedichi a te stessa e ciò che vuoi fare in futuro e davvero non saprei, cioè non riuscirei a immaginare la mia vita senza la pallavolo. Matilde? Questa cosa secondo me succede se la pallavolo ti rende felice, con qualunque sport, se uno sport ti rende felice, appena tu lo pratichi o anche se non ne senti parlare tutti i problemi spariscono. Come gestite gli allenamenti quotidiani con gli impegni scolastici e la vita di una sedicenne? È una vita molto frenetica quella che viviamo tutti i giorni, però tutti noi siamo consapevoli del sacrificio che facciamo. Ovviamente il tempo libero è molto poco, anche perché facciamo una scuola molto impegnativa. Certe volte c'è un po' di sconforto, però d'altra parte si pensa sempre che appunto senza pallavolo e senza scuola nessuno di noi sarebbe oggettivamente felice. Sicuramente il tempo libero non è poco, ma non ce n'è davvero. Qualche volta invece che andare all'allenamento ho pensato ad uscire con i miei amici, ma l'amore per la pallavolo e per questo sport per me è davvero troppo forte, quindi sono sempre andata all'allenamento. Quindi vi capita di dover fare dei sacrifici per lo sport? Esattamente, sì. In svariate cose, oltre agli amici, anche magari a volte con la famiglia, perché davvero se ci si tiene a questo sport si fanno un sacco di sacrifici. Quindi questo è il vostro presente tra allenamenti quotidiani, scuola, famiglia e amici. E il vostro futuro? Vedete la pallavolo nel vostro futuro? Sì, assolutamente. Magari se non dovessi riuscire a raggiungere quelli che sono i miei obiettivi, comunque utilizzerei sempre la pallavolo come caratteristica principale della mia vita, ma perché mi caratterizza proprio come persona e davvero non riuscirei a vedermi senza pallavolo. Ovviamente quando le persone mi chiedono cosa voglio fare da grande, è la prima cosa che risponde alla pallavolista. Punto ad arrivare sicuramente in Serie A, in futuro, anche se potessi non riuscirci, la pallavolo farebbe sempre parte della mia vita, in qualunque momento, in qualunque modo. Io vi auguro di diventare delle magnifiche pallavoliste e di raggiungere tutti i sogni che avete ora in mente nella vostra testa. Direi che è il momento di salutarci, ringraziamo Globe per l'ospitalità, ringrazio voi e gustiamoci questo buon caffè. Grazie mille. Grazie mille.